Ha proposto perfino al commissario straordinario di ripulire a spese proprio la spiaggia della Marina dalle Alghe per coronare il suo sogno d'amore ad Agropoli e ridare di coro a uno degli angoli più suggestivi della città. Lui è Mauro Falchetti, imprenditore di Leromano, che il prossimo 18 giugno convolerà nozze proprio ad Agropoli. Ma anche lui dovrà ripiegare su un'altra soluzione, perché non potrà sicuramente ospitare parenti e amici provenienti da tutta Italia su delle montagne di alghe. So che in tutta Italia e ho la possibilità di girare, le spiagge oramai sono tutte pronte a ricevere i turisti, ma qui ad Agropoli evidentemente c'è un'amministrazione o ci sono state amministrazioni, perché sono dieci anni che frequento questo posto, che se ne fregano altamente. La sua storia riporta l'attenzione e l'annosa questione degli accumuli di Posidonia che caratterizzano in negativo la spiaggia della Marina nei pressi del porto turistico e quella dell'Ido Azzurro. Io me la ricordo sempre così, forse un po' di meno, un po' più pulita, 5-6 anni fa, ma ultimamente proprio allo sbando totale. Nonostante questa difficoltà, il suo amore per la città resta invariato, tanto da lanciare un vero e proprio appello affinché questo problema venga risolto. Far diventare questa cittadina un giardino, dove l'accoglienza sia proprio il fiore all'occhiello, e vedrete che questa città che vive col mare avrà i suoi risultati, assolutamente sì.